Ogni elemento su una pagina web viene rappresentato dal browser come un rettangolo o una scatola. Questo viene chiamato box model in inglese, oppure in italiano modello a scatola, che non suona così bene come box model. Le caratteristiche di questa scatola sono diverse e vengono definite nel CSS. Ogni scatola è composta da quattro elementi, il contenuto, il padding, il bordo e il margine. Poi vedremo nel dettaglio il significato di ciascuna di queste parti. La prima parte è rappresentata dal contenuto e i parametri più importanti sono la larghezza e l'altezza, width per la larghezza e height per l'altezza. Analizzando il codice con i developer tools, infatti possiamo vedere che ogni elemento che selezioniamo, vedete, è contenuto all'interno di un rettangolo. Chrome usa diversi colori poi per le varie parti del rettangolo. Qui in basso, per esempio, selezioniamo questo qui, il titolo, the box model. Qui in basso vediamo che ci dice che la parte del contenuto ha delle dimensioni di 840x58 pixels, mentre le altre non sono definite. Se invece, per esempio, andiamo su uno di questi, vedrete che qui ci sono altre, anche il padding, per esempio, è definito. Però adesso concentriamoci solo sulla parte del contenuto. Quindi dicevamo che i parametri principali sono la larghezza e l'altezza. Facciamo degli esempi su VS Code. Quindi apriamo VS Code e creiamo due nuovi files all'interno della nostra cartella degli esercizi. Ne chiamiamo uno box.html e poi ne creiamo un altro box.css. Su box.html con il solito shortcut creiamo il boilerplate, qua posso chiudere per avere più spazio e magari lo chiamiamo box model. Facciamo il link al CSS, box.css. Ok. Poi all'interno del corpo creiamo tre divs. Quindi creiamo un div e all'interno mettiamo, per esempio, 25 parole. In questo modo. Poi prendiamo tutto il div, lo copiamo e lo incolliamo due volte. Ora, se andiamo live. Quindi per ora abbiamo questi tre divs. Andiamo nel CSS e diciamo che tutti i div devono avere una larghezza di, per esempio, 200 pixels. Poi vedremo anche altre unità di misura. I pixels tenderemo a usare il meno possibile, useremo altre unità di misura che vedremo più avanti. Quindi salviamo e vedete che adesso la larghezza massima viene data da 200 pixel. Facciamo la stessa cosa con l'altezza, per esempio, height, quindi, 200 pixels anche d'altezza. Salviamo. Ok. Quindi andiamo a ispezionare. Vedete, se io ispeziono un elemento, mi dice width 200 pixel e height 200 pixel. Ok. Per esempio, per vederli meglio, vediamo di lavorare su ogni div separatamente. Quindi andiamo a dare un id a ogni div. Quindi id, per esempio il primo lo possiamo chiamare box1, per fare più in fretta copio tutto, così, e qua. Il secondo lo chiamo box2 e il terzo box3. Ora posso andare a stilizzarli separatamente. Per esempio, ammettiamo, cancelletto, per gli id, box1, gli do una larghezza diversa, quindi facciamo 300 pixels. Vedete? Me la allarga e il contenuto si adatta. Per esempio, possiamo dare un'altezza, vediamo cosa succede se gli diamo un'altezza molto ristretta, per esempio 50 pixels. Ok. Lui, il box, la scatola me la dice 50 pixels. Però, il testo straborda, quindi va a mischiarsi col testo che c'era sotto, che viene a salire perché non si trova più quello spazio. Infatti, un'altra, per vederlo meglio, un altro parametro che possiamo dare al contenuto è quello del background color. se io gli do un colore, vedete, questo è esattamente 300 pixels di larghezza per 50 pixels di altezza. Andiamo a togliere l'altezza, così ritorna a 200 pixels, come era definita nel div. Ok, quindi questo è un box, è una scatola, che è rappresentata solo dal contenuto, di larghezza 300 pixels e altezza 200 pixels. Per esempio, andiamo a modificare il box 2 e diciamo che deve avere un background color chocolate e una larghezza di 150 pixels, mentre il box 3 lo andiamo a fare con background color di questo colore, e possiamo fare un'altezza, height, di 300 pixels. 300 pixels. Quindi, vedete che, appunto, in questo modo stiamo andando a modificare l'altezza e la larghezza e il background color del contenuto. Come abbiamo visto prima, ci sono altri parti che compongono questo set di scatole cinesi. Questa è solo quella centrale. Infatti, vedete che non c'è alcuna distanza tra questa e quella. Più avanti andremo a vedere come creare queste distanze, per impaginare bene le cose, come allineare queste scatole, eccetera, eccetera, eccetera. L'importante adesso è capire, appunto, che ogni cosa è una scatola, è un rettangolo. Questo rettangolo non deve essere per forza un rettangolo, può anche essere fatto con dei bordi arrotondati o addirittura circolari o ovali, ma vedremo più avanti. Quindi, ci vediamo nel prossimo video.